ciao amico appassionate transformers e benvenuto in questo nuovo video puoi aggiungere un perceptor in collezione o magari ne hai uno hai un tesla della fanstoys oppure un xtrans bot e vorresti sapere cosa potrebbe offrirti l'altro che il tuo non ha bene seguimi in questo video e proverò a farti vedere pregi e difetti dell'uno e dell'altro buona visione grazie a tutti la scatola migliore è sicuramente quella del fanstoys curata magistralmente come al solito per quanto riguarda la line art dal nostro johannes vinci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti migliore imballaggio in polistirolo per xtrans bot che incastona uno ad uno gli accessori grazie a tutti grazie a tutti migliori e migliori qualità vanno ad X-Transbot. Grazie per la visione! Bene amici, ci troviamo questa volta davanti veramente a due ottimi prodotti in cui queste due case, la Fanstoys e la X-Transbot che rivaleggiano nell'ambito delle terze parti nella produzione di questi Transformers hanno veramente sorpreso perché sono veramente riusciti ad ottenere due validissimi modelli dove le sfumature che li distinguono l'uno dall'altro sono veramente risicate al photo finish. Entrambi in scala Masterpiece si equivalgono anche per quanto riguarda le dimensioni. Per il Fanstoys leggermente più alto abbiamo un'altezza di 22 cm quindi un centimetro in più dell'X-Transbot che invece si ferma a 21 cm ma veramente 10 mm di differenza non sono una cosa importante. Come pure non è la differenza di peso, entrambi molto pesanti. Il Fanstoys ha un peso di 571 grammi mentre l'X-Transbot è addirittura leggermente più pesante perché pesa 582 grammi, 11 grammi in più. Questo a sottolineare il fatto che anche in X-Transbot i materiali siano ottimi e ci sia molta presenza di metallo come indica anche la prova al tatto delle parti fredde su di esso. Entrambe le case sono votate alla Tune Accuracy in questo modello e possiamo vedere le differenze principali tra le due. Abbiamo sull'estrema destra il Perceptor Tune e vediamo come il più somigliante per proporzioni sia veramente l'X-Transbot. Possiamo vedere come è più simile per proporzioni della larghezza del busto, la posizione delle spalle leggermente più in basso rispetto all'altezza del busto, le braccia più corte nella zona del gomito rispetto a Fanstoys, gli stessi avambracci sono più larghi e squadrati. Il colore rosso è più acceso e essendo anche poi pastello questo dell'X-Transbot è più in accuracy. Anche sull'addome troviamo questo quadrato grande che è più proporzionato rispetto al cartone sempre nell'X-Transbot, le cosce sono più corte sempre nell'X-Transbot e l'unica pecca di questo X-Transbot è la proporzione della testa perché è troppo piccola. Troppo piccola sia il rapporto al modello, alla totalità del modello e sia troppo piccola rispetto anche al cartone animato dove è molto più grande, più grande anche addirittura del Fanstoys. Fanstoys ha deciso di fare una scelta leggermente diversa quindi sacrificare leggermente la tune accuracy in favore di una proporzione di modello nettamente superiore nella sua totalità realizzando una sorta di atleta se vogliamo dire quindi molto più slanciato e con proporzione degli arti e del busto più compatti rispetto all'X-Transbot ed anche delle superfici più lisce più smooth rispetto a X-Transbot che si è ostinata a riprodurre tutte le venature anche presenti nell'anime che invece Fanstoys ha semplicemente lisciato. Vediamo come anche le proporzioni degli arti ne abbia risentito perché Fanstoys per renderlo più proporzionato ha allungato anche le cosce ed ha anche ingrandito i polpacci. Bene anche nella parte posteriore possiamo notare delle significative differenze come ad esempio la presenza delle viti ce ne sono moltissime anche qui sul Fanstoys addirittura sulle spalle ce ne sono quattro mentre X-Transbot le ha occultate meglio con dei tappini e invece fa peggio qui sul bacino dove ce ne sono in abbondanza nascoste invece dal gonnellino nel Fanstoys a recuperare un po' l'eccesso di viti nella parte delle spalle. Visto poi di profilo nel X-Transbot vediamo anche dei peg degli assi di acciaio che servono per tenere i pannelli qui lateralmente totalmente assenti invece nel Fanstoys che risulta quindi più pulito. Abbiamo poi queste rotelle di regolazione del microscopio in acciaio cromato sul Fanstoys mentre di qua sono semplicemente in plastica verniciata di grigio. Scelte simili per i microscopi. Il Fanstoys è più raffinato sia per verniciatura che per la regolazione in metallo mentre per quanto riguarda la gimmick dell'estensione vediamo che sull'X-Transbot si allunga da metà microscopio in poi mentre invece sul Fanstoys si allunga solamente la punta cromata quindi potrebbe essere anche diciamo superiore questo di X-Transbot a livello di articolazione mentre invece fa peggio su questo pannellino del petto che non c'è verso di tenerlo chiuso perché ci deve essere un ringrosso che non gli consente di aderire alla perfezione come invece vediamo nel Fanstoys che va sempre a posto al primo colpo. Scelte diverse anche per quanto riguarda i colori perché abbiamo un rosso metallizzato sul Fanstoys bellissimo che però non è certo d'un accuracy, nero metallizzato sempre per il bacino mentre invece un blu pastello per avambracci e cosce. Scelta opposta sull'X-Transbot dove troviamo un rosso più acceso e anche più tun però pastello mentre invece il blu è metallizzato quindi hanno invertito praticamente il fatto di essere pastello e metallizzato sui rispettivi modelli rispetto all'altro. Per quanto riguarda la verniciatura su X-Transbot c'è questa odiosa boccetta che si vede sulle parti rosse di metallo sicuramente una verniciatura a polvere non all'altezza della verniciatura del Fanstoys che non ha questo tipo di imperfezione su tutta la superficie molto quindi più raffinato per quanto riguarda le vernici il lavoro eseguito dalla Fanstoys. Nettamente superiore lo scat della testa del Fanstoys sia per proporzioni generali in quanto più grande e quindi più proporzionato rispetto alla testa minuscola di cui appare dotato l'X-Transbot e poi anche la profondità del viso è molto più proporzionata quella del Fanstoys. Sulla nuca invece fa meglio X-Transbot dove troviamo una sola vite invece delle tre presenti sul Fanstoys. Poi per quanto riguarda le articolazioni per quanto riguarda le articolazioni forse X-Transbot ha qualcosa in più. Al livello di stabilità siamo là perché anche X-Transbot riesce a stare in piedi e a posarsi tranquillamente. Per quanto riguarda proprio la qualità delle articolazioni qua abbiamo un cricchetto alla spalla che invece qua non abbiamo, doppia articolazione al gomito e quindi ci siamo per entrambi, in più il X-Transbot ha la possibilità del Butterfly che invece Fanstoys non ha. Per quanto riguarda le mani la finitura Fanstoys è sicuramente superiore. Queste sembrano di plastica più economica però sono più articolate. Addirittura abbiamo il pollice articolato in due punti mentre invece Fanstoys non ha l'articolazione del pollice. In più la mano ha anche questo movimento di polso che invece Fanstoys non ha perché si può ruotare solamente così. Alle anche abbiamo il cricchetto sia di qua che di qua. Articolazione doppia tutta in metallo per Fanstoys sulle ginocchia. Qua lo stesso doppia articolazione a cricchetto. Sul piede abbiamo le stesse articolazioni. Piede inclinabile e reclinabile. L'articolazione del gomito è più solida questa Fanstoys. Mentre qua è un po' più morbida. Non c'è freno. Si dovrebbe stringere un pochettino la vite comunque. Dopodiché alle gambe. Questo comunque cede. E questo lo stesso. Entrambi digeriscono bene la prova marionetta. Quindi entrambi sono abbastanza solidi. Passando alle trasformazioni. Entrambi i modelli hanno due modalità alternative. Quella a carro armato e quella a microscopio. Che in fin dei conti sono davvero molto simili tra di loro. Quindi potremmo dire quasi un ex eco. Ma la vera differenza laddove Fanstoys letteralmente mette la quinta. E poi a un certo punto gli butta dentro anche il nos. E' proprio la trasformazione. Ossia come arriva a questo alt mode. Perché è molto più intuitivo. Ha meno pannellini. Molto più veloce. Invece X-Transbot come al solito. Mette un'infinità di pannellini. Da girare e rigirare. E non ultimo. Tutto quello che è per di più. Potrebbe anche essere fonte di complicazioni e di rotture. Quindi Fanstoys vince sicuramente per le trasformazioni. Quindi ricapitolando. Migliore confezione e artwork per Fanstoys. Migliore imballaggio per X-Transbot. Che contiene magistralmente tutti gli accessori. Migliori accessori per X-Transbot. Che ne ha una grande varietà e numero. Migliore twin accuracy per X-Transbot. Invece migliore scalp generale. Se si guarda la figura del Fanstoys nella sua interezza. Migliore verniciatura e finiture per Fanstoys. Migliore trasformazione per Fanstoys. Prezzo migliore per X-Transbot. Spero di avervi dato tutti i migliori parametri necessari. Per effettuare la vostra scelta in un verso oppure nell'altro. A seconda degli aspetti che vorrete prediligere per la vostra collezione. E con questo video è tutto. Robots EGT vi saluta. Vi da appuntamento al prossimo video. E mi raccomando fatemi sapere qual è stata la vostra scelta. Ciao!